Ammonta a quasi 3 milioni di euro il finanziamento stanziato per il rifacimento dell'attraversamento del rio Pedrugnano sulla litoranea marina di Sorso-Platamona. I lavori, iniziati il 5 novembre scorso su progetto dell'ingegnere Antonio Luigi Rosa, stanno subendo rallentamenti a causa delle abbondanti precipitazioni. Per procedere ai lavori, che dovrebbero durare 8 mesi, la strada sulla provinciale 81 è stata chiusa al traffico nel tratto che va dal chilometro 5-700 sino al chilometro 6. Il ponte era crollato durante l'alluvione del novembre 2014 ed è stato oggetto in passato di smottamenti a causa del delicato contesto idrogeologico. Dopo un intervento provvisorio, venne riaperto la circolazione nel maggio 2015. Con delibera dell'amministratore straordinario della provincia Pietrino Fois del luglio 2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento che sono state affidate all'impresa Geometra Giuseppe Angius Costruzioni SRL di Porto Torres. L'intervento prevede la costruzione di un viadotto di 50 metri a due campate che sormonti il rio Pedrugnano, permettendo il naturale scorrimento fino al mare. Saranno realizzate due carreggiate oltre alla fascia delle barriere ai lati del ponte, è una pista ciclabile. La protezione sarà realizzata con una ringhiera metallica con un'altezza di un metro. La sezione trasversale totale dell'impalcato sarà di quasi 16 metri.